Retromarcia del PDL sulla Luppi e Servizi, non più amministratore unico, si mantenga il Consiglio di Amministrazione e scoppiano già i mal di pancia all'interno del gruppo. Il consigliere Fiorino Greco diserta la riunione con i suoi tenere in vita il Consiglio di Amministrazione della Municipalizzata con budget ridotto, ossia spacchettare a tre l'indennità che spetterebbe all'amministratore unico. Non è fantapolitica, ma un'ipotesi che l'amministrazione potrebbe decidere di percorrere qualora passasse in Consiglio la delibera che dichiara lupie di interesse generale. Lo conferma l'assessore con delega a rapporto con le partecipate Attilio Monosi, che si dice favorevole all'ipotesi CDA. Se il Consiglio di Amministrazione costa quanto un amministratore unico, ossia non ci sono sprechi, io voto per il mantenimento in vita dell'organo, anche perché prosegue con il CDA in piedi, si garantirebbe maggiore democrazia e controllo e quindi si dovrebbe rifare tutto e ripubblicare un nuovo bando. Tuttavia il capitolo lupie verrà affrontato e condiviso nel corso della riunione di maggioranza pre-consiglio comunale. Il PDL ha anticipato i tempi affrontando con il gruppo anche quest'ipotesi gradita da alcuni consiglieri. Alla riunione però non ha preso parte il consigliere Fiorino Greco, al quale nella fase di formazione della giunta comunale chiesero di fare un passo indietro in cambio della postazione di amministratore unico della partecipata per il figlio Gian Maria, assessore comunale a Novoli. Tuttavia se l'ipotesi CDA dovesse essere condivisa dagli altri gruppi di maggioranza, Greco potrebbe decidere di abbandonare l'ipotesi presidenza del CDA per il figlio, innescando così un braccio di ferro all'interno del PDL. Ma la questione potrebbe andare al di là del PDL e interessare i rapporti dei gruppi all'interno della maggioranza.